Ciao ragazzi e bentornate sul canale. Sarà un video un po' chiacchiericcio questo, spero che vi piaccia, perché siccome stiamo arrivando proprio, siamo a ridosso dell'estate, io non so quando pubblicherò questo video, se magari saremo già in estate o meno, perché ne ho diversi in stand by, quindi può anche darsi che lo pubblichi quando siamo in estate. Comunque, quando c'è il cambio di stagione, ovviamente cambiamo anche il nostro modo di truccarci. Siccome voi mi lo chiedete spesso in direct sui social, tanto trovate come vi dico sempre tutti i riferimenti giù nell'infobox, o appunto con dei messaggi, a volte qualche commento sotto a qualche video, eccetera, eccetera, mi chiedete appunto quali sono i prodotti che vi consiglierei in questa stagione per questo tipo di pelle, eccetera, eccetera. Ho detto ma perché non, siccome anch'io stessa cambio prodotti, perché non concentrare in un video proprio un po' quelle che sono le mie tecniche di make-up e come cambiano in estate. Quindi, io direi di partire dalla base, sapete il mio amore spropositato per la base viso, io adoro proprio, se devo essere sincera, la cosa che più mi piace è la base, cioè realizzare la base viso. Io non ho una pelle perfetta, ragazze, ahimè, nel senso che non ho una pelle super perfetta. Ho le rughette d'espressione, ho i pori, come un po' tutte direte voi, però insomma c'è chi magari ha dei pori meno dilatati, quindi comunque una pelle più levigata, e chi come me invece i pori sono un po' più visibili, quindi bisogna un attimino gestirli. Quindi, io direi di partire appunto dalla base, vedere un attimo quello che io utilizzo, quello che mi piace, e vediamo un secondo insieme di cosa si tratta. Quindi, direi di partire dalla cosa principale, ragazzi, principale. In estate e non, può cambiare per quanto mi riguarda il numero di SPF, perché in inverno può essere che la prenda anche 40, 30, dipende, eh, però sicuramente l'appunto, la cosa importante è la protezione solare, ragazze, la protezione solare. Va utilizzata sempre, costantemente, in ogni stagione dell'anno. Se non vogliamo avere una pelle segnata dalle rughette di proprio, diciamo, invettiamento della pelle, anche se comunque quelle fisiologiche per l'età ce le dobbiamo tenere, è quello, ok? Però, a parte tutto, la protezione ci aiuta tanto. Ci aiuta contro le macchie? Certo. Ci aiuta contro, comunque, le rughe che si possono creare, perché sapete, il sole è la cosa più bella che c'è, sicuramente ci fa molto bene, anche per quanto riguarda la vitamina D e tutto quanto, sicuro. Però, cioè, è un alleato, ma è anche un po' un, insomma, un nemico, tra virgolette, eh, tra virgolette, per la nostra pelle. Bisogna proteggersi. Ed io, al momento, sto utilizzando questa qui di Copp. Mai provata. Mi sta piacendo molto. Come consistenza, ragazze, è... Allora, questa qui è 50+, contro raggi UVA, UVB e infrarossi, con olio di canapa, ricco di acidi grassi essenziali, prevenne le irritazioni solari, rapido di assorbimento, resistente all'acqua. E devo dire che mi piace molto. Ha una consistenza, ovviamente, un po' più oleosa. A me piacciono queste creme solari. Cioè, io, avendo una pelle, comunque, mista, che tende alla disidratazione, mi piace quando mi sento la pelle un pochino più unta. Perché mi dà quella sensazione di elasticità. So che a molti di voi, invece, non piace, perché magari avete una pelle più, ehm... Come posso dire, un pochino più grassa, quindi un pochino più oleosa. Quindi avete bisogno di prodotti che, invece, vadano a non ungere la pelle, ma, semmai, a renderla più opacizzata. Vedete? Ecco. Chiaramente dà questo effetto glow, che a me non dispiace. Io cerco sempre un effetto di questo tipo, perciò a me piace molto. Mi ricorda tanto, profumo classico, delle creme solari. Mi ricorda molto, ehm, per esempio, la crema La Roche-Posay, quella, comunque, anti-age, piuttosto che anche quella di Aven. La, diciamo, la consistenza è quella, delle creme solari un pochino più ricche. Detto questo, passiamo, ehm, ai prodotti che utilizzo, ehm, aspettate che mi sistemo rossetto, mi si è aggiunto un pochino di gloss, perché si stavano settando le labbra. Quindi, direi di, ehm, passare proprio alla base. Cosa faccio io in estate? Sicuramente vado a rispolverare le, mh, creme colorate, le BB Cream. Ne ho due, al momento, questa è la Hydro Hero di Essence, lei, che ho nella tonalità 05, e questa qui di Astra. Evito il discorso fondotinta, preferisco applicare una crema colorata, è un pochino più leggera. Alle volte, invece, cosa faccio? Siccome mi piace molto, utilizzo questo qui di Elf, che è l'Halo Glow Liquid Filter. Quando, per esempio, non ho voglia di coprenza, perché comunque queste creme colorate, nonostante siano creme colorate, quindi più leggeri, però vanno a coprire. Quando non ho questo bisogno di coprenza, e voglio qualcosa di veramente leggero, vado a utilizzare lui, che ho nella tonalità light, vi faccio vedere. Lo vado ad applicare, in inverno lo uso come primer, però in estate, anche la scorsa estate, io lo utilizzo, ragazze, proprio, vedete? Cioè, proprio come base, perché un po' di colore lo dà. E lo vado ad utilizzare proprio come base. E sopra vado di prodotti. Cioè, bronzer, blush, fine. Cerco sempre, ragazze, quindi, di puntare su pochi prodotti, perché comunque con il caldo si suda, e quindi rischia poi di... Insomma, è la base viso di sciogliersi, e non è di certo un bel effetto. A volte, vi dico, invece, cosa faccio? Vado solo di correttore. Se mi rendo conto, ho preso un po' di colore nel viso, quindi non ho voglia di utilizzare prodotti, anche lui, per esempio, cioè, e non mi va, vado solo di correttore. Lo vado un po' a sfumare. Mi piace moltissimo, per esempio, questo qui di Astra, che è della linea più beauty, perché è leggero, è levigante. Lo vado a mettere dove ho un po' di imperfezioni, quindi contorno occhi, magari vado a togliere qualche imperfezione, a illuminare, magari, sopra il naso, magari vado ad illuminare questa zona. Fine. Lo vado a sfumare e via. Faccio molto spesso questo step, perché, e comunque applico magari solo quello, proprio perché il meno è meglio, soprattutto in estate, perché, ve l'ho detto, il sole, il caldo, il sudore va a rendere veramente, poi, se intendiamo proprio fare una full face, c'è il rischio, io parlo di per me, che, insomma, non renda nella maniera giusta. Poi, sicuramente, ragazze, vado a prendere, scusate, sicuramente, ragazze, va fissato il tutto. Quindi, quando io anche vado ad applicare prodotti come correttore, appunto, o una base, eccetera, vado a fissarla. Dipende. Se volete una cipria che sia opacizzante, quindi tenga a bada il sebo, piuttosto che anche, quindi, l'oleosità della pelle, e tutto quanto, la Invisible Matte, questa qui, di Catrice, in polvere libera, è veramente opacizzante. L'ho messa anche oggi, l'ho applicata anche oggi su queste zone qui e mi va a opacizzare benissimo. Se invece volete qualcosa di più leggero, potete utilizzare anche, per esempio, sì, non me l'ero preparata, ragazzi, quindi è il bello della diretta, come si suol dire. Vado, per esempio, a utilizzare una cipria, tipo questa qui, di Mulac, che mi piace molto. La sto utilizzando molto, molto spesso della linea BFF. Anche il fondotinta può essere una buona opzione, perché anche lui è una crema colorata, alla fine, cioè, non è proprio un fondo super coprente, super pesante, quindi, anche questa qui, di Mulac, è una buona, è una buona, diciamo, tinted cream, crema colorata. Quindi, io faccio questo, cioè, vado un po' di polveri. Sicuramente, ragazzi, non utilizzo, ve lo dico, blush in crema, se quando proprio fa caldo, o contour in crema. Allora, c'è da dire una cosa, o vado di blush e bassa, magari in crema, leggermente, e tutto, però dipende, anche lì, se fa veramente caldo. Quando voglio essere, comunque, perfezionata, e tutto quanto, io vado sempre di prodotti in polvere, quindi, blush in polvere, bronzer in polvere, e non vado a fare contouring, ma preferisco di gran lunga bronzer tipo queste, cioè, questa qui è di Bottega Verde, la Coccobello, cioè, della linea proprio Coccobello, ed è una limited edition, è una maxi terra, proprio che sa di cocco, ragazzi, in una maniera pazzesca, e vado a fare un effetto bronzing, quindi, non vado a fare contour, vado proprio ad applicarla all over, proprio su tutto il viso, per esaltare la bronzatura, dare questo effetto, un po' di colore, fine, non vado a fare contour, con prodotti, in crema, magari, che fanno ancora di più sudare, cioè, evito, anche se mi piace molto, lo sapete, evito per dire prodotti come questi, cioè, questo qui è il, lo adoro, è pazzesco, è il Golden Sun, di She Glam, è proprio il Liquid Contour, ma, preferisco, in inverno, quando vado a fare contour in crema, poi sopra, vado ad applicare anche prodotti in polvere, per fissare il tutto, però, tutti questi step, l'estate, non li faccio, vado giusto a fare lo lower, con un bronze, e via, e, come vi ho detto, sempre e comunque, blush, anche in polvere, ed anche lì, mi piace, mi piace utilizzare blush, che siano luminosi, per dire, mi piacciono tantissimo loro, questo è il Cheek Lover, me l'avete già visto utilizzare tantissime volte, di Catrice, che ho nella tonalità, Blooming Ghibiscus, e sono proprio questi blush, vedete, luminosi, mi piacciono molto, perché esaltano l'abbronzatura, danno questo effetto glow alla pelle, potete anche utilizzare, un blush opaco, e andare di illuminante sopra, però, quando veramente fa caldo, non abbiamo voglia, di portarci, magari se siamo in vacanza, tanti prodotti, un blush luminoso, basta e avanza, questo qui è molto bello, ha questi riflessi dorati, che, vedete, c'è, questo effetto glow luminoso, che mi piace molto, e mi piace tanto, devo dire, anche in questo periodo, questo qui, di una linea di Essence, il Blooming Bright, della linea Blooming Bright, il blush lighter, proprio perché, come potete vedere, anche lui, dà questo effetto luminoso, e soprattutto, in estate, amo questi colori corallo, gli aranciati, corallo, questi colori, che comunque, anche lì, esaltano l'abbronzatura, questo è molto bello, perché, potete creare, alla fine, tantissimi blush, perché, essendo così sfumato, cioè, a seconda di dove, voi prendete il colore, potete creare, come potete vedere, sfumature, decisamente, diverse, guardate qui, cioè, il fucsia, questo effetto corallo, e l'aranciato, quindi, in base anche, al vostro sottotono di pelle, al colore, che, di donna di più, potete andare, proprio, tranquille, che, create, il blush, che più vi sta meglio, e che più vi piace, anche, quindi, prediligo sempre, prodotti, in polvere, mi piacciono, utilizzo, pochi prodotti, però, che mi vadano, ad esaltare, l'abbronzatura, l'incarnato, e tutto quanto, passando adesso, invece, al, ai prodotti, per gli occhi, anche lì, vi dico, io, in estate, adoro, molto, adoro, tantissimo, gli ombretti, liquidi, sono la cosa, più veloce, più smart, da applicare, e basta, anche soltanto, cioè, bastano anche solo loro, per creare il look, sempre lì, col conto, sempre lì, col discorso, che, fa caldo, quindi, non abbiamo voglia, di andar lì, con le sfumature, con la matissima, sfumata, con, chissà quali, make up, almeno, per quanto mi riguarda, poi, se voi ci riuscite, sono felice, però, io, quando fa veramente caldo, che, sudiamo, anche soltanto, non so, muovendo un dito, questi, invece, gli ombretti, liquidi, sono fatti apposta, per essere applicati, come potete vedere, questo qui è di bottega verde, sempre della linea, perché mi sta piacendo molto, Coccobello, ma ne ho anche altri, vedete, si sfumano, anche, si applicano anche con le dita, cioè, sono, cioè, danno, questo effetto glow, vanno a esaltare, anche lì, l'abbronzatura, il colore dei vostri occhi, danno questa luce, qui, ora lasciate perdere, che io l'ho applicato con sotto, quindi sia un po' aperto come colore, però, ecco, ok, che l'ho sfumato, ma male, anche che avevo, mille prodotti sotto, vedete, ecco, magari ve lo applico così, ecco, così lo vedete meglio, vedete, danno questi riflessi, e via, cioè, basta, secondo me, in estate, rende, l'aspetto, l'occhio curato, luminoso, una passata di mascara, e siete pronte, poi, se uno ha una serata, vuole fare una sfumatura, è ovvio quello, sicuramente, però, se uno riusciamo, quando fa caldo, quello, già il ricrea, io ce l'ho applicato, nella palpebra mobile, poi sono andata di sfumatura, perché comunque, dovevo registrare un video, e quindi, ok, però, da tutti i giorni, quando fa veramente caldo, vedete, c'è, questo dà questo effetto, glow, questo effetto luminoso, che è, fa il look, anche da solo, un'altra cosa, che utilizzo molto, in estate, come potete vedere, anche adesso, ce l'ho, è utilizzare, proprio, delle matite colorate, lungo la rima, ciliare inferiore, proprio perché, andando di un colore, molto neutro, sulla palpebra, in questa maniera, come vi ho fatto vedere, con ombretti liquidi, o comunque, ombretti luminosi, applicati anche col dito, e via, sotto, mi piace dare, proprio un twist, di colore, questa è molto carina, e si fissa alla grande, ed è quella di, anche lì, bottega verde, waterproof, ovviamente, ragazze, waterproof in estate, come se non ci fossero domani, questa è di una vecchia collezione di Kiko, perché adoro io, proprio, queste colorazioni qui, che esaltano, nel mio caso, il colore dei miei occhi, però, per esempio, a seconda del colore, che avete voi, verde, anche un bel viola, è strabello, vedete, questa qui, è leggermente più azzurra, questa è leggermente più verde, ed è proprio, un qualcosa, che io faccio, molto, molto spesso, ne ho anche altre, se non erro, tipo, ecco lei, anche questa è di Essence, per esempio, ve la faccio vedere, e questa è ancora, di più verde, adoro questo verde acqua, queste colorazioni, che fanno proprio estate, utilizzate, come vi ho detto prima, prodotti vuoti, perché se non si sciolgano, col caldo, che si fissano bene, magari andate, se utilizzate una matita colorata, fate come faccio io, che vado a fissarla sotto, con la scipia, cioè vado proprio così, in modo da creare una barriera, perché, nel mio caso, io ho un occhio, che tende un po', a parte a lacrimare, ma anche, siccome applico contorno occhi, tutto quanto, a idratarsi molto, lo vado a idratare, comunque, e quindi, almeno, lungo la rima cigliare, vado proprio, cioè, non a seccare tutto, il contorno occhi, badate bene, ma proprio, a creare una barriera, con la scipia, lungo, la rima, cigliare inferiore, a creare, proprio questa barriera, che mi permetta, alla matita, di star lì, fissarsi, star buona lì, e non sciogliersi, perché altrimenti, poi tende a sciogliersi, soprattutto in questa zona, e mi dà quell'effetto, proprio di sbavatura, che non mi piace, quindi, tendo sempre a utilizzare, le matite colorate, a me piace tantissimo, vedete, in questa maniera, questi, questi look, così, colorati, perché in estate, proprio, il, ragazzi, il colore, fa da padrone, e, e questo, direi, ci siamo, magari, una cosa, quando applicate il prodotto, l'ombretto sull'occhio, anche lì, potete andare con l'ombretto, comunque, luminoso, in polvere, ok, io vi dico, quello liquido, perché è più facile, applicate sempre, sempre, un primer, occhi, tipo, ad esempio, lui, o piuttosto che, il Too Faced Insurance, lui, cioè, lo Shadow Insurance, di Too Faced, piuttosto che, anche, per esempio, questo qui, che è il Prime, Lacabossa, e Shadow Base, di Essence, per dire, perché questo, perché, il primer, aiuta proprio a evitare le righe, il caldo, ovviamente, tende a sciogliere, se no, il makeup, quindi, loro, sono buoni alleati, per far sì che, rimanga un look, fissato, senza, che si vadano a creare, appunto, quelle, non belle righe, nella piega dell'occhio, a me succede, per dire, sempre, anche per il solito principio, perché ho l'occhio, parecchio idratato, applico spesso, applico sempre il contorno occhi, anche sulla palpebra, quindi, devo sempre cercare di salvare la situazione, passiamo poi al discorso mascara, mascara, sempre, ragazze, waterproof, mi raccomando, sempre waterproof, discorso ciglia finte, dipende, una volta in estate evito, perché, non applicando, tante volte, l'eyeliner, cosa faccio? Evito le ciglia finte, perché comunque, la riga di eyeliner ci vuole, quindi, vado di tanto mascara, vado a creare un bel effetto ciglia finte, e via, quindi, cerco di appisantire, meno, ok, il viso, quindi, proprio con pochi prodotti, per quanto riguarda, poi le labbra, vado di prodotti gloss, e via, evito ragazze, vi dico la verità, evito di fare sempre contorno labbra, prodotti magari in crema, e, cioè, vado sempre di prodotti gloss, perché esaltano, secondo me, anche lì, e rendono il tutto, un po' più fresco, ad esempio, mi sta piacendo tanto, questo, prodotto qui di Shiglam, ne ho tanti gloss ragazzi, cioè ho quelli di Fenty Beauty, o gloss, per esempio, di Kiko, tipo, non lui, ve li cerco, però, per esempio, ecco sì, questo qua, per esempio, questi gloss di Kiko, che sono i 3D, Hydra Lip Gloss, piuttosto che anche, il Madame Lip Style, o questo qui di Astra, c'è prodotti glossati, che comunque, sì, danno anche una base colore, però sono belli luminosi, non c'è anche lì il rischio di vedere se sbordano o meno, perché comunque sono nude, poi magari, se c'è una serata, si può usare anche un bel rosso, però, io vado spesso di gloss, in modo che mi danno questo effetto glow alle labbra, e fine, evite di fare contorno labbra, e tutto quanto, cioè, almeno a me piacciono molto, questi qui, questo qui, per esempio, è di Shiglam, come vi dicevo, vi faccio vedere, vedete, dà questo effetto bello rimpolpato, e in estate mi piace, devo dire che, paradossalmente, in inverno, anche utilizzo di più gli opachi, rispetto all'estate, no? Sembra un paradosso, in realtà, li utilizzo di più, in estate, mi piace proprio, facendo caldo, questo effetto di labbra, belle glossate, perché comunque, vado, cioè, con poco make up occhi, quindi, mi piace di più questo effetto luminoso, e poi direi, che a parte questo, sì, siamo arrivati al setting, sicuramente, io utilizzo setting spray, proprio per fissare, quello che io ho applicato sul viso, che per quanto sia poco, però comunque fisso, e vado, in che se, a fissare, allora, se avete una pelle oleosa, io vi consiglio, il setting spray, che siano opacizzanti, che comunque, vadano a fissare il make up, però non vanno a farvi lucidare, oltre misura, e questo è l'all nighter, di Urban Decay, uno dei più famosi, se ne sente parlare meno, in questo periodo, cioè, in questi ultimi anni, però, rimane, secondo me, uno dei migliori, se volete, che il trucco, veramente, vi, vi duri, e avete una pelle misto oleosa, se, invece, come me, comunque, non, cioè, io ho una pelle comunque mista, vado, di classici setting spray, sto adorando, e mi piace moltissimo, come sapete, il face, il face XX, di Revolution, questo qui, della Revolution Pro, credo, sì, questo qui, che sa di cocco, ed è buonissimo, poi, va a proprio, a fare un effetto, nebulizzato, vedete, cioè, non si percepisce neanche, ecco, vedete, cioè, non si percepisce proprio, non vi fa fare questo effetto bagnato, se no, mi piace anche tanto, sto utilizzando questo qui, di, ehm, Bottega Verde, della linea sempre Coccobello, al cocco, oppure, mi piace anche molto, mi piace anche molto, sì, perché li sto guardando, insieme a voi, anche questo qui, di Catrice, della linea Villains, non so se si trova sempre, ehm, di Crudelia, per dirvi, e, o se no, aspettate, eccomi ragazzi, non riuscivo a trovarlo, ok, che è per esempio, questo setting spray qui, mh, sono anche mist, chiamate, perché comunque, lo potete andare anche proprio per un refresh, questo qui è di Technique, è l'illuminating skin mist, vedete che ha, queste, proprio, particelle d'oro all'interno, questi, proprio flakes, infatti, sempre fiocchi, questi qua, vedete, che danno, questo allure, proprio, questo effetto luminoso alla pelle, ok, quindi, lo sto, cioè, l'utilizzo proprio, spesso e volentieri in estate, perché mi piace molto, altra cosa che mi sono dimenticata di dire, di che utilizzo tanto in estate, sono loro, sono questi sieri, quando, per esempio, voglio comunque, ehm, realizzare una base, magari con un fondo, anche leggero, un pochino più opacizzante, per dire, come può essere, un fondo, tipo, questo di NYX, per farvi capire, che sono, comunque, un pochino più, presenti, cioè, si sentono un pochino di più, sulla pelle, vado, spesso, proprio, per dare un effetto fresco, con un, ehm, con un primer, barra siero, questo, questo qui mi piace molto, di Essence, che è il Pore Minimizing Serum, cioè, qualcosa che, comunque, mi va ad allevigare, a chiudere i pori, laddove il caldo, va a, dilatarmi un pochino di più, mi ero dimenticata questo, cioè, era un passo che mi, è un passaggio che mi ero dimenticata, di, eh, di dirvi, e nulla ragazzi, quindi, questo, è un po', un condensato, di, delle mie abitudini, in estate, o comunque, quando fa caldo, e niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, e spero di avervi tenuto, un po' di compagnia, fateci sapere, che siamo, chiaramente, proprio una family, eh, fateci sapere, sotto nei commenti, quali sono i vostri prodotti, che, eh, chiamate in estate, e quali sono le vostre abitudini, in estate, per quanto riguarda il make up, ok? condividetele con noi, in modo tale che vi leggiamo tutte, e soprattutto, prendiamo spunto, io per prima, e io ragazze, vi ringrazio di cuore, per essere arrivate fin qui, vi ringrazio tantissimo, per seguirmi, per il fatto che mi seguite, con tanto affetto, e come vi dico sempre, proprio, riconosco anche i vostri nick, quindi, insomma, si sta creando, proprio, anche, delle belle, amicizie, chiamiamole così, anche se virtuali, perché, con tante di voi, attive, tramite i propri social, e tutto quanto, come vi ho detto prima, riconosco i vostri nick, e quindi, mi fa davvero tanto piacere, perché c'è, proprio una quotidianità, chiamiamola così, comunque, una continuità, mi fa davvero tanto piacere, io quando, ricevo i messaggi, ricevo i commenti, su YouTube, sotto ai video, eccetera, mi piace, proprio il fatto, di mettermi lì, poi la sera, o nei giorni, successivi, soprattutto se lavoro, ovviamente, quando ho un attimo di tempo, mi metto lì a rispondervi, e, è una cosa che adoro, adoro tantissimo, perché, ve l'ho detto, è come un po', se fossimo delle amiche lì, in quel momento, a prendere un caffè insieme, e, quindi, vi ringrazio davvero tantissimo, io vi invito, a iscrivervi al canale, se siete approdate, in questo video, per caso, e, come vi ho detto prima, a seguirmi sulle social, tanto trovate tutti i riferimenti, giù nell'info box, io vi mando, un grosso bacio, come sempre, e ci vediamo, come al solito, se vi va, nel prossimo video, ciao ragazze, e, grazie,